Lei ha detto Gershon, vero? Gershon è l'equivalente ebraico di Geron? No, non è equivalente. Così non è equivalente. Sentiamo ancora così poco di voi. Il vostro popolo, per noi tedeschi, è ancora ingrappante, non è in ingrappante. Dimenticavo il venditore di palloncini. Ma il definitivo, quel uomo, non serve. Quel uomo, non serve, non distingue tra destra e sinistra, se ne va a destra e quando deve andare a sinistra, quel uomo. Abbiamo gente da tutta l'uomo e che comporta alcuni problemi organizzativi. La situazione è stromofona soprattutto per le persone di una certezà, ma la gente trova le attività di Cereso. E lui con una semplicità che, lo so che ha fastidio, però lo devo dire, con una semplicità che è solo dei grandi, ha risposto che io ci sarò. E' il maestro Lottor Romano. Lottor Romano.